Come calcolare il target price di una criptovaluta quando va in price discovery, cioè quando sale al di là dei suoi massimi storici in all time high continuo, diciamo così. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di come si può andare ad applicare una semplice strategia per calcolare quello che è il target price di una criptovaluta, di una altcoin in generale. Potrebbe essere anche applicata la stessa tecnica a tutti gli strumenti finanziari, però ci sono delle leggere differenze, funziona un po' di più questa cosa con le criptovalute. Vedremo come si può andare a calcolare quali sono i tre passaggi che bisogna fare ed un caso pratico, il caso Shiba Inu. Se avete sentito bene oggi andiamo a parlare del super cane del criptovalute, il super cane che sta facendo numeri incredibili perché è salito di una cifra allucinante. Ragazzi non riesco neanche a dirvi a quanto ammonta la cifra di rendimento perché parliamo mi pare del 750.000 per cento, una cosa che può succedere solo in questi ambiti veramente. Allora andiamo ad applicare questa strategia per cercare di capire quale potrebbe essere ad esempio il target price di Shiba Inu proprio perché Shiba in questo momento sta facendo questi target price, questi app veramente all'ascensore classici pamponi delle cripto che però ragazzi non hanno un grafico di riferimento perché siamo in all time in continuo. Quindi questo è quello che facciamo, ho preparato delle slide per voi tutto questo in un unico video quindi statevi con il bip attaccate alla sedia ma prima di andare avanti vi do due news importanti. La prima è questa, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi mi piace per questi super pollici però poi vi dico un'altra cosa. Allora tempo fa nel video quello relativo alla YLD e a quello che stavo combinando con YLDAP per quanto riguarda la mia piattaforma di Sefy, quella di quella ad alto rendimento che sto utilizzando negli ultimi mesi, vi avevo promesso un'estrazione di un giveaway relativo a 500 YLD, avverrà domani sul mio canale Instagram in diretta live alle ore 16 ragazzi. Quindi iscrivetevi sul mio canale Instagram, questo che vi lascio in diciamo in front of you. Se ancora non l'avete fatto alle ore 16 domani andiamo a fare l'estrazione di quello che è il premio, il giveaway dei 500 YLD che sono circa 200 dollari attualmente. E boh ragazzi allora io non l'ho mai fatto quindi la prima volta che lo farò sicuramente ci sarà un sacco di problemi live nell'estrazione, però vi aspetto domani giorno 29 di ottobre alle ore 16 sul mio canale Instagram, sul mio profilo Instagram per fare questa estrazione in diretta live che non ho mai fatto e farò un macello, già ve lo dico solo perché è sicuro. Va bene, allora di cosa abbiamo bisogno per andare a calcolarci un target price di uno strumento finanziario? Allora iniziamo con le slide di oggi come calcolare un target price caso Shiba Inu e andiamo a capire quelle che sono le tre, secondo me diciamo in questa strategia le tre variabili fondamentali da andare ad applicare e sulle quali in sostanza andare a ragionare ragazzi. Allora la prima attualmente è questa qui. Allora vediamo se riesco a portarvi ecco qui. Allora di cosa abbiamo bisogno? Allora intanto il decidere il grafico da utilizzare perché utilizzeremo chiaramente i grafici non bisognate minimamente di andare a fare una previsione di un possibile target price di una criptovaluta o anche qualsiasi strumento finanziario, già magari ecco su qualche stock, su qualche azione si potrebbe optare per altri tipi di modelli ma non bisognate di andare a fare una previsione di una cripto come quella di Shiba Inu facendo o non so cosa sull'analisi del progetto, queste cose qui assolutamente è tutta un'invenzione se fate una cosa del genere ve la state immaginando diciamo in pratica quindi l'unico modo da andare a cercare un target price perché poi queste sono situazioni veramente di pampa d'ascensore quindi molto emotive è quella di utilizzare un classico grafico sceglieremo qua anche il time frame quindi andatevi a segnare tutti questi punti ragazzi quindi il time frame da utilizzare che è la cosa fondamentale poi il secondo punto è conoscere lo strumento andremo a ragionare appunto su questa cosa significa conoscere lo strumento e poi quali indicatori andremo a utilizzare per fare questo tipo di questione allora partiamo subito dalla questione, dal caso Shiba allora intanto però volevo prima di andare proprio avanti andare a ragionare su questi tre punti per spiegarvi il significato e poi andiamo subito a analizzare il grafico di Shiba Inu allora ragazzi il grafico, perché dobbiamo utilizzare un grafico per fare questa previsione di target price? perché non stiamo ragionando in termini di lunghissimo periodo, nessun senso un target price di lunghissimo periodo non può essere trovato ve lo dico in maniera molto netta, sincera, schietta chi dice il contrario secondo me è una fesseria poi ognuno ha la sua opinione e tutto il resto nel lungo lunghissimo periodo non ci sono target price questa è la questione di fondo quindi perché non ci sono? perché le caratteristiche che fanno un investimento di lungo periodo si modificano col corso del tempo quindi qualsiasi informazione che noi conosciamo ad oggi nel lungo periodo non ha alcun impatto in quanto quella informazione verrà modificata, cambiata, aggiornata ci sarà un upgrade di quelle informazioni ci saranno nuove informazioni che verranno messe nel calderone dei mercati che fanno l'equilibrio domanda e offerta perciò il target price di lungo periodo non si può calcolare ragazzi perché non esiste, un target price di lungo periodo è da qui all'infinito se dovessi solo indicare un unico variabile che possiamo tenere in considerazione è la market cap, cioè la grandezza massima di valore di quello strumento finanziario questo potrebbe essere preso come unico riferimento per calcolare un eventuale massimo target price oltre il quale siamo nella follia magari ecco una cosa del genere, sì però ragazzi non ha nessun senso andare a fare una previsione di target price di lungo periodo, cioè 10 anni per intenderci perché qualsiasi cosa state immaginando in questo momento non ha lo stesso impatto nel futuro e ci saranno nuove informazioni quindi target price possono calcolare su, utilizziamo il grafico per calcolare un target price perché stiamo parlando di breve o medio periodo un annetto massimo, ma neanche un po' di meno direi io ma qualche mese, da tre mesi massimo ad un annetto nelle criptovalute è da tre minuti perché le cripto come sci, ma ragazzi in tre minuti fanno 50 punti vabbè, allora scherzi a parte su questa cosa allora, secondo punto che vi dicevo nelle slide conoscere lo strumento bisogna conoscere lo strumento questo vale per tutti gli strumenti finanziari nessuno escluso quindi bisogna conoscere lo strumento perché? perché se non conosciamo lo strumento non capiamo come può muoversi quello strumento questa è una cosa che riguarda per esempio le stocks e le azioni in quanto se noi non conosciamo l'azienda in riferimento che insomma fa la quotazione della stocks non sappiamo capire come potrebbe muoversi per esempio ragazzi, un'azienda che investe su scoperte scientifiche importanti come biotecnologia eccetera se fa una singola scoperta fa un pump ok? perché se la scoperta è molto rilevante diciamo può fare una cosa del genere quindi diversa il concetto se andiamo ad analizzare una banca dove probabilmente non ci sarà nessuna scoperta che può innescare un pump di una certa portata solamente magari, non so, una trimestrale buona ok? una cosa del genere quindi lo strumento conoscerlo è importante per capire come si può muovere quel tipo di strumento finanziario nelle cripto è importante conoscere il progetto che c'è dietro cioè capire che cos'è quel progetto una cosa è parlare di Solana è la chain di Solana che è quello che sta creando una cosa è parlare di Shiba Ino che è un meme coin e tutto quello che c'è dietro cioè la community è questa idea generale quindi che è molto importante nel settore delle criptovalute quindi queste sono differenze sostanziali poi c'è il terzo punto quali indicatori andare a utilizzare? ci servono gli indicatori perché su un grafico non possiamo andare a fare previsioni di target price possibili senza avere un'indicazione generale senza utilizzare alcuni indicatori e proprio l'utilizzo degli indicatori è strettamente collegato al punto numero 2 quindi alla conoscenza dello strumento se sappiamo come agisce quello strumento come si muove quello strumento e in che modo ecco ragazzi non a livello di prezzi che fa sappiamo anche qual è l'indicatore più giusto perché sapete che ci sono 2 milioni e mezzo di indicatori sui mercati io come spiegava nei miei corsi di formazione ragazzi trovate il link in descrizione del mio super corso basic che ha cambiato veramente il modo di fare trading a tantissime persone sono molto contento delle recensioni che mi lasciate e sul corso per me sono importanti ragazzi perché mi danno idea di cosa fare tra l'altro lo sto per rifare da capo quindi sarà un eventone che insomma questo ve lo spoilero in questo momento allora ovviamente sarà tutti i nuovi video saranno disponibili anche per chi ha già comprato il corso quindi non è una cosa non sarà un nuovo corso sarà un restyling ok di quello vecchio e allora come spiego in quel corso non ci servono 2 mila indicatori chi vuole studiare 3.500 indicatori non ha capito il trading ragazzi ve lo dico ancora me ne aprà chiara perché è vero che potete utilizzare tanti indicatori se fate gli speculatori proprio del brevissimo periodo da qui a un'ora però è anche vero che state praticamente inventandovi una cosa che insomma questa cosa qui ho provato a statistico non mi dilungo però se fate analisi quantitativa escono fuori queste problematiche altrimenti no quindi l'unico modo per capire quanto un indicatore può essere utile o meno è fare una analisi quantitativa quindi noi dobbiamo scegliere l'indicatore più giusto non utilizzarne 9.000 ok come spiego nei miei corsi è fondamentale focalizzarsi e ridurre la confusione va bene allora questi sono i tre punti che vi ho fatto vedere il significato di questi tre punti è fondamentale andiamo ad applicarli alla questione Shiba quindi caso Shiba Inu allora intanto il grafico che utilizzeremo oggi per fare in maniera pratica adesso questa previsione dell'eventuale target price di Shiba è una cosa ragazzi che ovviamente qui ve la dico stiamo facendo una lezione di teoria di spiegazione di un metodo che possiamo andare a applicare non vuole essere la previsione del mago hotel ma che con la palla di vetro vi dice il target price ma è un'idea generale sulla quale poi voi stessi potete andare a riflettere e tra le altre cose non abbiamo altri sistemi altri mezzi per poter ottenere un target price diciamo affidabile scientifico con una metodologia su questi strumenti finanziari quindi intanto capite questa cosa e quindi non vuole essere un esempio per dirvi vendete lì io non do consigli finanziari non li ho mai dati non li darò mai sul canale non vi scriverò mai messaggi privati quelli sono i miei scammer quelli che mi clonano i canali vi scrivano non sono io quindi ricordatevelo e quindi ragazzi non sono così finanziari quindi non andate a copiare queste cose perché non è così che si deve ragionare imparare 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 questa è la cosa più importante allora grafico che utilizzeremo scelto il grafico del time frame 1D perché in questi contesti con questa strategia assolutamente il migliore di tutti da utilizzare un po' meglio del time frame settimanale perché il time frame settimanale può essere un po' più complesso proprio per il fatto che è troppo troppo lento forse per questo tipo di strategie allora andiamo al secondo punto che strumento è Shiba Inu allora qui dovrei farvi una domanda se fossimo in una live la domanda sarebbe scrivetemelo e parliamolo e che strumento è Shiba Inu allora e in maniera molto breve Shiba Inu è un meme coin ragazzi una meme coin ed è importante andare a capire qual è l'atteggiamento di un meme coin ragazzi allora creare business nel futuro avere un'idea generale di creare degli utili un'azienda produrre valore per il mondo ok allora sono tutte questioni un po' soggettive molti dicono non c'è niente dietro diciamo come Dodge è la stessa cosa eccetera sì questo è vero però c'è una grande community quindi quanto pesa la grande community di Shiba Inu quanto pesa questa idea generale di poter creare valore anche su qualcosa che non ha dietro assolutamente niente non ha dietro industrie progetti vari validi non è la solana della situazione per esempio no allora questa cosa ne ho già parlato c'è tanta filosofia dietro c'è tanta idea di mercato domande e offerte che si incontrano non voglio parlarne qui questo è un video out to no ok come fare però ragazzi lo strumento Shiba Inu si muove in base a natura emotiva quindi questo è evidente perché non ha una pubblicazione per esempio di una novità sulla chain come può essere Ethereum 2.0 cioè non c'ha l'idea di pubblicare un'innovazione dietro che faciliterà per esempio l'emissione di nuovi smart contract non so di qualsiasi altra cosa quello che fa è avere una super community dietro che crede nella possibilità di creare valore dal nulla appunto come si dice dall'incontro domande e offerte dal mercato e quindi questo strumento agisce in base emotiva perché se sale tutti dicono wow sta salendo andiamo se scende crolla perché nel momento in cui va giù tutti dicono non c'è niente dietro vendono ok quindi è un tipo di strumento finanziario che si definisce strumento di natura riflessiva cioè riflette l'atteggiamento emotivo degli stessi trader che vanno a fare il mercato perché poi al fondo non ha una base d'appoggio sulla quale noi possiamo dire possiamo dare un valore minimo ad esempio a questo strumento e dire ok sotto qui è impossibile perché c'è il mining c'è tutta la struttura c'è la tecnologia c'è l'adoption bla 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 ok questo è il concetto di fondo quindi che strumento è shiba uno strumento riflessivo agisce e sale proprio in base a come e ragiona il mercato in base alla pancia ok possiamo dire così quale indicatore utilizzare estensioni di fibonacci c'è un errore ragazzi vabbè non fa niente doveva esserci una E al posto della I qui ragazzi tutto qui allora estensione di fibonacci indicatore si chiama così allora il concetto che c'è di fondo perché utilizzare l'estensione di fibonacci perché è un indicatore di natura emotiva quindi andiamo a far plasmare quello che è l'indicatore in sé attaccando al concetto dell'analisi dello strumento questo imparatelo perché è una delle delle chicche che do sempre anche nei miei corsi di formazione ho spiegato sempre a tutti andare sempre a dire creiamo coerenza tra gli strumenti tecnici che utilizziamo in questo caso gli indicatori e la natura dello strumento questo è un principio fondamentale c'è proprio un modulo dove io parlo proprio di questo principio nel mio corso quindi prendete questa chicca fate nel tesoro ragazzi l'indicatore in quanto tale deve essere coerente con quello che è lo strumento quindi shiba strumento emotivo indicatore emotivo va bene ok passiamo al grafico e facciamo l'applicazione di tutti questi principi allora questo è il grafico di shiba andiamo ad applicare l'estensione di fibonacci per quanto riguarda questo grafico e cerchiamo di capire come si intanto come si usa lo strumento estensione di fibonacci poi andiamo a vedere che cosa ci ci porta allora l'avevo già cliccato allora ragazzi dove trovate su trading view l'indicatore estensione di fibonacci è qui allora tecnicamente qua di solito mi sembra che ci siano le trendline di default poi adesso non ricordo comunque nella parte alta che vedete qui trovate sia il ritracciamento di fibonacci sia l'estensione di fibonacci allora andiamo a cliccare sulle estensioni di fibonacci andiamo a capire come funziona l'estensione di fibonacci ha tre punti da indicare ragazzi solitamente è un massimo un minimo e poi un altro massimo in questo caso quindi uno due vedete e tre per indicarle questo è il modo in cui si vanno a utilizzare ci sono diversi modi per esempio facciamo un esempio su questa ultima parte su cui li possiamo calcolare perché possiamo andare dal minimo al massimo a un nuovo minimo che è quello che servirà a noi oggi oppure possiamo andare al contrario quindi se lo strumento sta scendendo si applica andando a fare per esempio il tocco di un massimo poi un minimo e un nuovo massimo in questo caso non c'è il massimo perché dovrebbe essere un trend decrescente quindi sui trend decrescenti andate a fare massimo minimo massimo sui trend crescenti si fa minimo massimo minimo e questo è il modo in cui si applica l'estensione di Fibonacci questo indicatore andiamo adesso ad applicarlo sulla attuale situazione di Shiba e andiamo a capire che cosa sta facendo allora ci sono intanto andiamo a individuare quelli che sono i minimi e i massimi per una questione di target price di medio periodo come abbiamo detto quindi non di brevissimo periodo per questo abbiamo preso il time frame 1D ci sono due livelli che sono evidenti insomma ecco in termini di massimo per quanto riguarda Shiba e di minimo allora il primo livello è questo il famoso massimo storico questa parte qui che è un vecchio massimo che è stato breccato proprio nelle scorse giornate ha dato il via a questo super pump incredibile e poi l'altro è il minimo quello che è stato toccato praticamente da sempre cioè tutto l'anno 2021 quello che trovate qui in pratica Shiba è girata diciamo intorno a questo livello toccando questa barra verso il basso quindi questo livello può essere identificato come il nostro livello di minimo questo livello invece è il livello di massimo ci serve l'altro minimo in questo caso che siccome a noi interessa solo la fase futura del mercato non quella precedente lo troviamo qui questa è l'altra area di minimo che ci interessa cioè l'ultimo massimo che è stato un doppio massimo poi ha ritracciato vedete quindi in questa zona qui abbiamo l'altro livello di minimo quindi abbiamo minimo un massimo che magari gli cambiamo colore lo facciamo sul verdino ok e poi il nuovo minimo ecco i tre punti di fibonacci che ci servono per tirare l'indicatore per costruire l'indicatore estensione di fibonacci quindi andiamo qui poi andiamo qui e poi andiamo sull'altro minimo allora adesso io vi tiro questi livelli perché perché in questo modo riusciamo a vederli più estesi diciamo sul lato destro del grafico ok ragazzi va bene allora adesso cancelliamo i punti in questione così abbiamo più chiarezza guardando soltanto i livelli di fibbo e andiamo a ragionare su quelli che sono i livelli di fibonacci allora questi sono i vari target che la cripto poteva avere nell'arco della struttura e nell'arco dei suoi movimenti ovviamente guardate che cosa è successo nelle precedenti giornate il mercato ha testato per esempio alcuni di quei che sono le estensioni di fibonacci molto importanti poi è andato oltre perché sulle cripto ragazzi soprattutto di questo tipo il principio riflessivo ci porta a indicare che non dobbiamo fermarci solo ai classici 05 061 comunque i livelli più importanti per chi di voi conosce anche la teoria di fibonacci sono questi qui ragazzi 05 06 18 e poi 07 86 questi sono i livelli più importanti in questo caso siamo andati oltre anche il 100% come spesso avviene dopodiché e quindi abbiamo nuovi target che sono questi intanto tutti questi livelli hanno fermato per qualche giorno vedete lo 076 ha fermato lo 05 qui ha fermato per esempio la giornata poi c'è stato un balzo fino allo 076 ve lo zoom un poco e un ritorno indietro vedete proprio l'emotività del token come va a toccare dei livelli che sono appunto quelli di fibonacci tra le altre cose non state assolutamente al livello preciso alla centesimo in questo caso guardate sempre l'aria intorno non mai il livello preciso ragazzi non è così che si applica questo tipo di indicatore vi assicuro non è una previsione infatti di brevissimo periodo quindi abbiamo un'aria di congestione insomma generale quindi questo break vedete 07 ha portato un nuovo qui il break dell'1 ha tirato un pampone gigantesco su tutti gli altri livelli ora dove siamo siamo all'estensione 1.618 cioè si ripassa nuovamente da capo con tutti i vari livelli il mercato ha breccato ieri questa estensione ora ci sta ritornando indietro quindi siamo in quest'area di target price se continua a salire dove può arrivare shiba allora ci sono delle aree in maniera evidente poi bisognerà andare a rifare il questo tipo di strategia quando andrà a fare un nuovo minimo ragazzi quindi magari qui scende domani dopo domani ci disegna un minimo si rifà da capo questa applicazione quindi troveremo altri indicatori sempre in price discovery per gli altri target price quindi in questo caso la area più immediata è questa qui che è intorno a 0,0001 centesimo e poi quest'altra che è molto alta ragazzi perché è molto più in alto quindi il 30% più in alto queste sono tutte aree di target che in questo momento potrebbe bloccare l'ascesa di shiba quindi una cosa qui arriva e poi cosa fa e poi potrebbe crollare di nuovo alla parte bassa quindi attenzione a questo livello eccetera se continua a salire questa è una buona area dove potrebbe andare vedete perché proprio a livello di principio di riflessione emotiva le estensioni di piponacci in questo caso vi indicano un livello di target possibile una volta che magari il mercato andrà a fare un nuovo minimo quindi andrà a fare una salita poi disegna una cosa del genere e poi magari riparte possiamo ritracciare questi queste estensioni e possiamo farlo semplicemente andando magari a ricostruire il nuovo minimo massimo minimo come si fa faccio un brevissimo esempio in questo caso sarebbe minimo massimo e poi nuovo minimo qui e vi ritrovate nuove estensioni di fibonacci da andare a guardare va bene allora questi sono questa è la strategia applicata anche al caso shib abbiamo visto dei tp che possono essere aggiunti attenzione a questa fase perché in questo momento sta sull'1.618 che è un buon livello un'aria difficilotta infatti sta un po' respirando e sta un po' ritracciando quindi un po' pericolosa questa fase però se dovesse andare su puoi continuare diciamo in quelle aree che vi ho spiegato questo è un buon modo per andare ad applicare un po' di teoria un po' di matematica un po' di studi che non sono semplici idee generalizzate il cosiddetto pensiero della folla insomma chi di voi conosce un po' queste terminologie lo sa quindi non il brusivo sentito dire ma applicare magari un indicatore pur sempre consapevoli del fatto che stiamo parlando di principi riflessivi quindi dietro non c'è altro che le emozioni e la community che ci crede che partecipa a questi progetti e questo è un buon modo per trovare target price per strumenti in price discovery quando sono pilotati per esempio dalle emozioni quindi i principi riflessivi cosa ne pensate ragazzi avete qualche consiglio da dare anche a chi sta vedendo questo video scrivetelo nei commenti chi di voi è skillato magari vuole dare anche un consiglio condividete il più possibile se riuscite questo video così date una mano non solo a me ma anche a chi vuole informazioni vuole capire come si deve ragionare perché tantissimi magari non sanno queste cose quindi dategli anche la possibilità di venire a conoscenza di queste di queste informazioni e noi per oggi ho finito solo 27 minuti proprio un classico vabbè ci sta perché questo è un video un video corso e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao a tutti